Questo video riguarda i migliori 3 specchio da bagno. Il vincitore della qualità è il GUET specchio da bagno. Premere brevemente il pulsante della luce per regolare le lampade della temperatura di colore 3000K, 4500K, 6500K, tenere premuto il pulsante della luce per regolare la luminosità della luce dello specchio. Lo specchio da bagno GUET ha una funzione anti-appannamento, basta fare clic sull'interruttore per inserire automaticamente lo stato anti-appannamento per mantenere sempre un'immagine di riflessione chiara. Design con strato riflettente argentato, perfetto per mostrare il tuo viso, design in vetro temperato per garantire un uso sicuro. La vita utile può arrivare fino a 5000K ore. Ogni specchio è fissato in una scatola con una scatola di schiuma spessa personalizzata, che protegge lo specchio dalla rottura e ha superato la caduta, l'urto e altri test in fabbrica. Perfetto per bagni o camere da letto di casa, saloni di moda, hotel, ecc. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il S bagno specchio da bagno. Illuminazione chiara e delicata, striscia luminosa resistente all'acqua, alta resa cromatica, non si verifica sfarfallio, per una resa veritiera del make-up. Design della luce ambientale laterale, luce delicata, crea uno spazio confortevole, dispersione ridotta della luce, risparmio energetico e lunga durata. Esperienza audio unica a 360 gradi. La tecnologia del suono omnidirezionale a 360 gradi può garantire che il suo suono si diffonda uniformemente. La tecnologia di disappannamento controllato dalla temperatura, un sensore tattile intelligente con un cuore da artigiano, è in grado di disappannare rapidamente lo specchio e impedisce che la superficie si appanni nuovamente. Grado di protezione IP44, standard di esportazione UE, tutti i moduli elettrici intelligenti e i componenti sono sigillati in una scatola elettrica isolata. Privo di rame, specchio di colore argento ecologico e ad alta risoluzione, conforme agli standard UE. Il vincitore del premio è il Miku LED specchio. Questo specchio da bagno può essere facilmente installato orizzontalmente o verticalmente in base alle proprie esigenze 70x50-50x70 cm con segna sicure e senza danni è la nostra priorità. Gli specchi LED sono imballati in modo sicuro. Il pulsante si illumina di bianco latte quando è acceso, e il discreto blu quando è spento, così si può facilmente aprire al buio. Il nostro specchio da bagno a LED è impermeabile IP44, per garantire un'illuminazione sicura in ambienti umidi. Una consegna sicura e senza danni è la nostra priorità. Gli specchi LED sono imballati in modo sicuro. Ogni specchio è confezionato in una scatola di cartone rinforzato di alta qualità. Lo specchio ha uno spessore di 39 mm che lo rende meno soggetto a ossidazione e ruggine e ha una durata più lunga, più rispettoso dell'ambiente, più durevole e più sano. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.